Nelle situazioni difficili guardiamo al Signore, lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino, riflettendo su alcuni atteggiamenti possibili, a partire dalle odierne letture bibliche. Guardare il Signore, contemplare il Signore, e questo ci dà questo stupore, tanto bello, di un nuovo incontro col Signore. Signore, io ho questa tentazione, voglio rimanere in questa situazione di peccato. Signore, io ho la curiosità di conoscere come sono queste cose. Signore, io ho paura. E loro hanno guardato il Signore. Signore, salvaci Signore, siamo perduti. E' venuto lo stupore di un nuovo incontro con Gesù. Non siamo ingenui, né cristiani tiepidi. Siamo valerosi, coraggiosi. Siamo debili noi. Ma dobbiamo essere coraggiosi nella nostra debolezza. E il nostro coraggio, tante volte, deve esprimersi in una fuga e non guardare indietro per non cadere nella mala, nella cattiva nostalgia. Non avere paura. E sempre guardare il Signore.